Musica Ancora una volta ben trovati nell'ambito di queste trasmissioni in mezzo agli olivi, alla natura, dedicate a Oro Liguri, all'organizzazione regionale degli olivicoltori. Abbiamo parlato della potatura degli olivi, di diversi tipi anche di potatura che bisogna fare per mantenere i nostri olivi, per garantire la produzione negli anni e garantire la salvaguardia della pianta. E adesso oggi è la giornata di incontrare di nuovo, intanto Alessandra, questo ci fa molto piacere, ciao Alessandra, ben ritrovata, buona giornata a te. È il momento di ragionare anche su un altro tipo di intervento, parliamo sempre di olivi, chiaramente, e in questo caso però di concimazione. Concimazione, esatto. Allora, intanto quando si parla di concimazione si parla di nutrienti, nutrienti che devono essere forniti alla pianta. Si possono dividere i nutrienti in macroelementi e microelementi. I macroelementi sono azoto, fosforo e potassio, sono quegli elementi che devono essere forniti alla pianta in grosse quantità. I microelementi, invece, sono vari, possono essere magnesio, rame, manganese, boro, e sono quegli elementi che devono essere forniti alla pianta in piccole quantità per poter essere utili. E sono i principali componenti di vari processi metabolici. Il boro, per esempio, è essenziale per la fioritura della pianta. Questi macroelementi vengono indicati sul sacco del concime, o comunque sulla confezione di concime, quando si va ad acquistare. Ed è importante controllare il titolo. Il titolo è la quantità di questi elementi all'interno del concime, in percentuale. Qui stiamo ragionando, mi pare, un po' tecnicamente, nel senso che non è come i nostri vecchi, che magari si facevano dare o tenevano il letame degli animali e poi la concimazione un po' nell'orte, un po' negli oliveti avveniva semplicemente così. Qui c'è un po' più di impegno, un qualcosa di diverso, il che ci porta a dire che cosa? Che Oro Liguria è anche un'organizzazione che parte proprio dalla campagna, cioè voi cercate di garantire il prodotto finale, quello che poi andremo a vedere a Dolva Pre, che è il frantoio di Dolce, Dovasi e Prelà, voi lo garantite fin dall'inizio. Quindi cercate di seguire un po' anche quelli che decidono poi di conferire a Dolva Pre, di seguirli dando gli indicazioni precise, perché a questo punto non è così facile, insomma c'è bisogno di un aiuto un po' per districarsi in quello che ci stai dicendo, no? Sì, esatto, intanto a tutti gli associati del Dolva Pre, quindi gli olivicoltori che conferiscono le olive, viene garantita assistenza tecnica in campo e non solo, vengono garantite anche delle analisi gratuite del terreno e fogliari che permettono al tecnico, in questo caso io, di stilare un piano di concimazione il più adatto possibile in base ai risultati delle analisi. Appunto, come dicevo prima, dipende un pochino dalla stagione. Seguendo le varie fasi fenologiche dell'olivo, bisogna concimare in un determinato modo. Per esempio, iniziando dall'inverno, diciamo, febbraio-marzo, inizio primavera, al momento della ripresa vegetativa, si può cominciare a dare all'olivo un concime organo minerale. Organo minerale vuol dire che contiene una parte organica ed una minerale. La pianta principalmente, anzi esclusivamente, assorbe ioni minerali attraverso la soluzione nutritiva del terreno. Quindi la parte minerale di quel concime sarà pronta immediatamente o quasi, nel senso rispettando i tempi di traslocazione all'interno della pianta, che sono di circa un mese. Quindi, se io vado a concimare a metà fine febbraio, alla ripresa vegetativa, che da noi più o meno avviene verso la fine di marzo, la pianta si troverà pronti gli elementi della parte minerale. E avrà recepiti dal terreno, insomma. Esatto. E serviranno quindi per l'accrescimento della pianta e per la differenziazione delle gemme a fiore. La parte organica, invece, che è quella che comunque serve al terreno per mantenere anche una certa fertilità, una certa umidità del suolo, quindi una ritenzione idrica e per evitare l'erosione, verrà trasformata dai batteri utili del terreno in minerale nel corso dei mesi. Quindi questa parte organica sarà pronta alla pianta poi in piena estate, quando ci saranno le olive che avranno bisogno di accrescersi e di iniziare il processo di inolizione, che è praticamente l'aumento del contenuto in olio dell'oliva. Ecco, la concimazione degli olivi è particolare anche nella tecnica, nel modo in cui viene fatta. Cioè, come avviene? Adesso siamo intorno a questo olivo. Se dovessimo effettuare l'intervento, come ci dovremmo comportare, Alessandra? Le radici, quelle fresche, diciamo, quelle che assorbono, sono situate più o meno nei pressi della... praticamente tirando una riga dove finisce la chioma verso il terreno... La proiezione della chioma sul terreno. ...la chioma sul terreno. Quindi la concimazione dovrebbe essere fatta più o meno in questa zona. In quest'area qui. In quest'area qua, tutta intorno alla pianta. e l'ideale sarebbe comunque interrare il concime solido, per evitare che venga trasportato via dall'acqua o semplicemente ossidato. In particolare... Quindi scavare un pochino qui intorno e poi interrare il nostro concime e rimettere la terra sopra. Perché comunque l'azoto, per esempio, è un elemento mobile che viene facilmente traslocato via. Quindi si rischia di dare del concime e buttarlo, insomma, non avere gli effetti voluti. Quindi la concimazione solida deve essere fatta intorno alla pianta. Ci sono per caso anche interventi fogliari, cioè diversi? Un altro tipo di concimazione è la concimazione fogliare, che è comunque complementare, nel senso che è sempre importante rispettare la parte del suolo. Il suolo deve essere sempre tenuto fertile e la concimazione fogliare non deve essere sostitutiva, ma semplicemente complementare, altrimenti si rischia di avere un suolo troppo arido e delle piante troppo stressate. Quindi la concimazione fogliare, come abbiamo detto, è integrativa e può essere iniziata, diciamo, verso maggio-giugno. E quella si fa, immagino, cos'è? A spruzzo, sull'apparato fogliare, sulla chioma? Con dell'acqua, i concimi fogliari, sono dei concimi un pochino più costosi, ma che si possono usare a concentrazioni minore. Vengono diluiti con l'acqua, che diventa un po' il veicolo per trasferirle alla pianta. Il primo trattamento può essere effettuato verso maggio-giugno con azoto, principalmente perché comunque a maggio-giugno la pianta ha ancora bisogno di accrescerci, i frutticini sono ancora piccoli, hanno bisogno di una spinta per accrescersi, con dei microelementi che danno comunque una spinta alla pianta e con del rame. Il rame, comunque, è sempre opportuno usarlo nei trattamenti forriari per almeno due o tre volte l'anno, perché, diciamo, che contrasta tutte le malattie fungine e batteriche e verso agosto-settembre evita la cascola dei frutti. Alessandra, stai suggerendo delle indicazioni molto importanti, però ci terrei anche evidenziare una cosa, che si tratta di interventi che servono a mantenere e a curare la pianta, quindi anche il prodotto finale. Non stiamo parlando di agenti chimici che ci faranno mangiare poi delle olive che diventano blu invece che le nostre olive da giasca, cioè è meglio spiegarlo, questo per chi ci ascolta, cioè qui stiamo parlando di aiutare la natura senza rovinare il suo lavoro. Esatto, sono comunque prodotti chimici, ma non sono fitofarmaci, quindi non sono veleni, tra virgolette. E comunque colgo l'occasione per dire che, al posto dell'organo minerale al terreno, in febbraio-marzo, per chi ha la disponibilità di letame stallattico, va benissimo anche quello, anzi, forse è ancora meglio dell'organo minerale. Il problema è che non tutti hanno la possibilità di trovarlo. Quindi i nostri vecchi, insomma, la sapevano lunga. No, no, assolutamente sì, assolutamente sì, perché proprio per quei processi di trasformazione la materia organica poi si trasforma in minerale, ci mette magari un pochino più tempo, però è pronta e disponibile poi al momento in cui serve alle piante. Alessandra, noi ti ringraziamo per questi preziosi consigli e proseguiamo il nostro cammino insieme ad Alessandra, insieme a Oro Liguria, che è l'organizzazione regionale degli olivicoltori, proprio per cercare un po' anche di divulgare, mi sembra il termine più giusto, divulgare concetti utili, buoni, pratiche, per quello che riguarda l'olivicoltura, in questo caso in modo particolare, il fatto di mantenere al meglio le nostre campagne è riuscire in questo modo ad avere un prodotto finale, l'oliva, la nostra taggiasca, che sia assolutamente di qualità, giusto? Esatto, perché il discorso è anche che bisogna un attimino differenziare l'olivicoltore che fa l'olio per sé e l'azienda più strutturata che invece vuole vendere le olive per l'olio DOP oppure per la mensa. Chiaramente sono due prodotti completamente diversi, intanto per la mensa bisogna ottenere un calibro di 13-14 mm, parliamo di dimensione di oliva, quindi bisogna anche cercare di irrigare e concimare nel modo giusto per far sì che questo calibro... Ci sia questa crescita perché 13-14 è un po' un record nei nostri territori più o meno, no? Sì, sono... Non è facile, voglio dire, la taggiasca... Abbastanza grosse, abbastanza belle, però sono olive curate di aziende che vogliono ottenere un determinato prodotto. Chi fa l'olio per sé non ha bisogno di raggiungere questi calibri, quindi per queste persone che vogliono solo produrre per autoconsumo va benissimo anche una semplice concimazione a febbraio-marzo al suolo. Per chi invece ha un'azienda un pochino più strutturata sarebbe opportuno fare anche dei trattamenti fogliari durante l'estate. Quindi chi segue Oro Liguria, chi conferisce a Dolva Pre, chiaramente a queste cose ci sta attento perché punta a avere il giusto calibro nella taggiasca perché serve a garantire quell'oliva che poi può diventare oliva da mensa, può diventare oliva denocciolata, cioè tutte quelle belle e saporite cose che poi troviamo sulle nostre tavole. Assolutamente, è nostro interesse che gli olivicoltori associati abbiano delle olive belle e un prodotto di qualità. E quindi in caso di bisogno voi siete lì? Assolutamente sì, ci siamo. Grazie Alessandra, naturalmente continua a essere anche con noi perché non finisce qui, noi andiamo avanti a parlare di Oro Liguria, andiamo avanti a parlare di olivicoltura, di olive, insomma delle cose buone della nostra terra. Ok? Va bene, arrivederci. Grazie a tutti.